Un brano di Cicerone tratto dal Divinizione, secondo libro, dove Cicerone in una prospettiva filosofico-teologica si scaglia contro ogni espressione di ricerca del futuro, ritenendo la religione migliore e più pura senza queste espressioni che secondo lui sono fasulle e prive di fondamento. Qui abbiamo appunto, è meglio non conoscere il futuro, la riflessione è chiaramente di carattere filosofico, ricordatevi, la filosofia di Cicerone conosce lo stoicismo, conosce l'epicureismo, conosce lo scetticismo e non è mai stato Cicerone né di una corrente né di un'altra, è sempre stato eclettico, è sempre scelto di ogni singola corrente quello che era più caratterizzato dal buonsenso. Ego ne utile quidem arbitror, esse nobis futurarum rerum scientiam. Dunque, vedete che c'è un esse, un'infinitiva che si inserisce dentro le infinitive, si sovrappongono a volte alla proposizione principale, quindi bisogna andare a cercare il verbo che è della preposizione principale. Ed è arbitror, ego arbitror. Poi c'è ne utile quidem, quindi bisogna andare a cercare un accusativo e l'unico accusativo qui è scientiam, a cui si accorda anche futurarum, no, non c'è niente, c'è esse, futurarum rerum delle cose future, no? Quindi, io penso, io penso che cosa? Scientiam futurarum rerum, che la conoscenza delle cose future, esse ne utile quidem nobis, sia neppure utile a noi. Non sia per niente utile a noi, non ci sia per niente utile. E poi iniziano degli esempi. Que eneme vita fuisset priamo, si vab adulescensia scisset, quose ventus enectutis esset abiturus. Abbiamo una condizionale, perché inizia col si e termina col verbo, scisset. Poi abbiamo un quos che termina con esset abiturus. Attenzione che, urus con sms esset, o urus con simsisset, è molto probabile che sia l'espressione di un'interrogativa indiretta. Voi mi direte, ma qui c'è un punto interrogativo, c'è un'interrogativa diretta, ossia questa qua. Que ene in vita fuisset priamo, principale interrogativa, che regge una condizionale, che regge un'altra interrogativa, ma questa indiretta. Ecco perché abbiamo l'abiturus esset, perché l'urus sim e l'urus esset è sempre e soltanto per esprimere il futuro del congiuntivo, un'azione posteriore, che noi in italiano non abbiamo, ma che il latino, nella consecuzio temporum, utilizza con il participio futuro. Que vita, que è un aggettivo interrogativo, quale vita infatti sarebbe stata a priamo? Poi, evidentemente questo è un dattivo di possesso, se vogliamo tradurlo in maniera migliore, priamo diventa soggetto. Quale vita avrebbe avuto priamo? Quale, essendo un aggettivo interrogativo, rimane sempre a primo posto. Se avesse conosciuto dalla adolescenza, dalla giovinezza, quali eventi della vecchiaia avrebbe avuto il soggetto? E' lui, cioè priamo, e quos eventus è un complemento oggetto. Qui abbiamo due esortative. Aveamus a favoris. Propriora videamus. Vedete, due congiuntivi. Allontaniamoci dalle dicerie, dalle favole. Videamus, guardiamo le cose più chiare, guardiamo con maggiore chiarezza le cose. Valutiamo le cose più proprie, più reali, più concrete. Clarissimorum hominum nostre civitatis gravissimus exitus in consolazione con legimus. Qui è una preposizione unica. Con legimus vuol dire abbiamo raccolto. Abbiamo raccolto che cosa? Cerchiamo un complemento oggetto. E gravissimus si dà un'idea. Exitus assieme gravissimo. Ricordate che nella quarta declinazione us ha anche l'accusativo plurale. Abbiamo raccolto i gravissimi esiti dei più famosi uomini della nostra città in consolazione nel libro intitolato Consolazione. Qui d'Igitur, che cosa pertanto? Intende dire con questa prolessi, che cosa pertanto? Non l'abbiamo ancora capito? Ut omitamus superiores Marcone crasso putas Utile fuisse tum Cum maximis opibus et fortunis florevat Sci resibi Interfecto pubbio figlio ed esercito deletto Transe ufratem cum ignominia ed ed ecoresse per eudum Dunque Ut omitamus superiores Mi pare che non ci sia dubbio C'è un ut Per omettere i precedenti, no? E questa è una finale. Poi vedete che c'è un punto interrogativo Quindi la proposizione principale è interrogativa. Attenzione a questo Marcone Non era crescitivo di Marco Non è un Marco grosso E Marco al dativo Con il suffisso ne Che introduce un'interrogativa Quindi Putas E' la proposizione principale Pensi forse Putas ne Pensi forse O potrebbe anche non esserci neanche il forse Ne a volte potrebbe anche non essere neanche tradotto Pensi che a crasso Sarebbe stato utile Sarebbe stata cosa utile Che cosa? Cum maximis opibus fortunis florebat Lasciamolo perdere Lasciamolo perdere Un cum con l'indicativo una temporale Utile fuisse tu uscire Sarebbe stato utile sapere Io ho messo verde verde perché non avevo più colori Ma sono due proposizioni differenti Pensi che a Marco crasso Sarebbe stato utile sapere Allora quando Allora quando Tum cum Floreba Terinauge Massimis opibus Et fortunis Con le sue più grandi ricchezze E le sue fortune E i suoi successi Sapere Sapere che cosa? Qui c'è un avlativo assoluto Interfetto Publio Figlio Esercito Deletto Ucciso Il figlio Publio Publio E distrutto L'esercito Lasciamolo perdere Sapere Pereundum Esessibi E un'infinitiva Sapere che doveva perire Letteralmente Si doveva perire da lui Poi il simio può diventare soggetto Nella perifrastica passiva Che lui doveva perire Al di là delle eufrate Con ignominia e disonore Penso che questa frase La sua maggiore difficoltà È individuare queste infinitive collegate Pensi Che sia stato utile Sapere Che avrebbe dovuto perire Pensi Puisse utile Che sarebbe stata E questo è un neutro Cosa sottinteso Che sarebbe stata Cosa utile Sapere Che cosa Sibi per e undumesse Che da lui Si doveva perire Che doveva perire Che doveva morire Poi tutto il resto Va dentro Con Massimo Sobis Fortunis Floreba C'è come l'indicativo Vuol dire Quando C'è un ablativo assoluto Interfetto Pubiofido Esercito Deletto Quindi Queste si inseriscono Con semplicità E ancora una cosa Io ho considerato Marcone E Crasso All'interno della principale Non sarebbe proprio così Perché Pensi Che sarebbe stato utile A Marco Questo Marcone Crasso Dovrebbe appartenere All'infinitiva Ma visto che Cicerone Ha attaccato Il suffisso Ne a Marco L'ho tenuto Impropriamente Con la principale An Pneum Pompeius M Censes Tribus Suis Consulatibus Tribus Triumphis Maximarum Rerum gloria E qui abbiamo Abbiamo già subito Un'infinitiva Che Pompeo Fuis Non esiste Non esiste Non esiste l'infinito futuro Con fuisse L'infinito futuro Nell'infinitiva È letaturum Esse Come mai Abbiamo letaturum Fuisse Perché fa parte Di una Di un periodo ipotetico Della Irrealtà Laddove La reggente Della condizionale Deve essere Tradotta All'infinito futuro Solo in questo caso Solo in questo caso Abbiamo L'urum Col fuisse Quindi Nei periodi ipotetici Dipendenti Con ipotesi Irreale Impossibile Laddove La reggente Della condizionale È Un'infinitiva Allora Che si sarebbe Alietato Per i suoi Tre consolati Per i suoi Tre trionfi Maximano Per la gloria Delle Più grandi Imprese Delle sue Più grandi Imprese Si Sciret Se Avesse Saputo Non se Sapesse Vi ho detto Che nelle Ipotetiche Dipendenti Non Indipendenti Bisogna Tradurre Ad orecchio Altrimenti Bisogna Conoscere Una complessità Di regole Che sono Veramente Troppo Complicate Quindi Bisogna Un po' Ad orecchio Se non si riesce Io posso Anche subito Tradurre Se sapesse Ma Poi Alla lettura Finale Viene fuori La necessità Di mettere Se avesse saputo Anche se Un imperfetto Congiuntivo In latino Se Se Avesse saputo Che cosa Se Trucidato Meri E un Infinito Futuro Passivo Che lui Sarebbe Stato Trucidato Nella Solitudine Degli Egizi Amissu Esercito Dopo Aver Perduto L'esercito E poi C'è Qualcosa Che è Un po' Complicata Aspettiamo Andiamo Di mettere Tutto Nella Stessa Secondo me Questa Potrebbe Essere Una Variazio Guardate Se Avesse Saputo E Abbiamo Una Infinitura Se Avesse Saputo Che Sarebbe Stato Ucciso Ma Questo Se Avesse Saputo Mi Regge Anche Una Proposizione Quindi In questo Caso Un Vero e Proprio Complemento Oggetto Che Quindi Fa Sì Che Secondo Me Ci Sia Una Variazio Perché Lo Stesso Verbo Regge Due Realtà Differenti Anche Se Una È Una Subordinata Oggettiva E L'altra È Un Complemento Oggetto Consecutura Consecutura Secondo Secondo È Una Perifrassica Attiva Sostantivata Che Da Che Ha Valore Di Sostantivo Le Le Cose Destinate Ad Avvenire Le cose Destinate Ad Accadere Dopo La Morte In Vero Quelle Che Non Possiamo Riferirsi Ne Lacrimi Senza Lacrime Senza Piangere Stavo Pensando Altre Possibilità Se Avesse Saputo Che Sarebbe Stato Ucciso E Che Sarebbero Avvenute Quelle Cose Potrebbe Anche Essere In Realtà Un Infinitiva Se Avesse Saputo Che Sarebbe Stato Ucciso E Che Consecutura Esse Sarebbero Avvenute Quelle Cose No Sarebbero Avvenute Dopo La Sua Morte In Vero Quelle Cose Che Mettendo Un Consecutura Mettere Un Essere Sottinteso E Allora A Questo Punto Ci Sarebbero Due Infinitive Shiret Se Trucidatum Iri E Shiret Consecutura Esse E Consecutura Esse E Aque Secondo me Tutte e due Le possibilità Possono Funzionare E allora In questo caso Secondo Non abbiamo Variazio Abbiamo Un Shiret Che Regge Due Infinitive Poi c'è Una frase Qui Una frase Qui Abbastanza Complicata Dove Secondo me Per poter Rispettare Il tutto È necessario Aggiungerci Questo Punto Interrogativo Cerco Di Spiegarla Quid Vero Cesare In Putannus Si Divinasset Foreuti Nio Senato Quel Maiore Sparte Ipse Cop Tasset In Curia Pompei Antipsius Pompei Simulacrum Tot Centurionibus Suis Inspec Tantibus A nobilissimis Civibus Pati Messia Masse Omnibus Rebus Ornatis Tutti Giato Di Tagliacere Ut Adeus Corpus Non Moda Micorum Sen Ne Servorum Quida Quis Qua Cruciato Animi Vita Maturum Fuisse Allora Io Lo traduco Come Una Prolessi Quid Vero Una Prolessi Che vuole dare Una particolare Forza Al discorso Che viene dopo E che è in vero E che cosa devo dire in vero E che cosa possiamo dire in verità E poi inizia Pensiamo Che Cesare Però A meno di voler Tirare via Si Divina Asset No? Che se Divina Visset È una condizionale Poi Abbiamo il Quei maiore Parte Isset Co-op Tasset È una relativa La possiamo togliere Si Divina Se il Foreut Ricordatevi Il Foreut Foreut Con l'imperfetto Congiuntivo Col presente Congiuntivo Esprime Una posteriorità E questo Foreut Gira 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 E qui Aceret E tot Centurione Busui Spettante Bus È un relativo Assoluto Perché vedete Che non ci sono Altri verbi Poi Vabbè Trucidato Su un participio Passato Ucciso Trucidato Quindi Si Divina Se le Foreut Iacere Itaut Itaut Abbiamo una consecutiva Quindi se noi Tiriamo via Tutte queste subordinate E le vediamo dopo Viene fuori Cesare Putamus Quo cruciatu Animi Vita Macturum Fuisse C'è un punto interrogativo Come tale Io ho bisogno Di una Particella interrogativa E la particella interrogativa Qui ce ne sono due Il quid E il quo Non ce ne possono essere due Altrimenti Viene fuori un pasticcio Ecco perché Io ho diviso La prima Le prime due parole E le ho messe da parte E le ho tirate via E ho considerato Questo quo Aggettivo Interrogativo Con quale tormento Quo cruciatu Putamus Pensiamo che Cesare Scusate Con quale tormento Dell'animo Pensiamo che Cesare Avrebbe condotto la vita Con quale tormento Con quale tormento Dell'animo Pensiamo che Cesare Acturum Fuisse vita Ma avrebbe condotto la vita Si divinasset Se avesse Saputo Che Perché il forehut È come un'oggettiva Che Forehut Iaceret Sarebbe giaciuto Iaceret Un imperfetto Quindi forehut Più l'imperfetto Nelle mie regole C'è scritto Corrisponde a un condizionale Passato Forehut Iaceret Sarebbe giaciuto In quel senato Quem coptasse Che aveva Radunato Un congiuntivo A trazione modale Che noi traduciamo In indicativo Che lui stesso Aveva formato Maiore exparter Per la maggior parte Nella curia Chiamata Pompeia Pompeiana Davanti Alla statua Dello stesso Pompeo Poi c'è un ablativo Assoluto Spectantibus Mentre erano presenti Tanti suoi centurioni In spectantibus Presenziando Letteralmente Tanti suoi centurioni Trucidato Ricordiamoci Il nominativo Dai cittadini Più nobili Ornatis Ornatis Parte anche Omnis bus Rebus Di ogni cosa Da lui stesso Così che Quisquam Vuol dire Qualcuno Però dobbiamo partire Di qui Al suo corpo Non solo Tra gli amici Sede Nequide Ma neppure Tra i servi Qualcuno Si avvicinava Ed è questa La traduzione Io Anche qui In quest'ultima Io Devo partire Dal lut Così che Quisquam Qualcuno Si avvicinava Ma poi Io Amicorum E servorum Che sono Due genitivi Partitivi Non modo Sedene Quiden Non solo Tra gli amici Ma neppure Tra i servi Qualcuno Si avvicinava A Deius Corpus A suo corpo La frase Per me È complessa E Probabilmente Un alunno In questa Lunga Traduzione Non si rende Neanche conto Di questo Problema iniziale Dove Questo Quid vero Deve essere In qualche modo Isolato Altrimenti Vengo ad avere Un aggettivo E un pronome Interrogativo Allo stesso tempo E due Non vanno bene Neppure Si può pensare Che l'infinitiva Quo cruciato Anime vita Antun Fuisse Possa essere Introdotta Un aggettivo Un aggettivo interrogativo Certe Igi Ture Ignoratio Futurorum Malorum Utilio Resquam Scienzia Certamente Pertanto L'ignoranza Delle cose Future È più utile Che La conoscenza Abbiamo terminato Con una Rasetta Facile Facile Grazie a tutti